Ciao! Allora, oggi sfogliamo insieme l'album numero uno del Livro Che, album tutto dedicato a San Valentino con tantissime promozioni e set regalo. Direi quindi, dato che è bello lungo di non esitare oltre e iniziare subito a sfogliarlo. Ciao! Allora, eccoci qui, vediamo il catalogo numero uno che è valido fino al mercoledì 1 febbraio 2017. Iniziamo a sfogliarlo perché la prima cosa che vediamo, subito, eccola qui, è questo set, si chiama Organizer Multiuso, è un set, eccolo qui, anche bello contenitori per tenere un po' di tutto, ed è in omaggio acquistando due trattamenti anti-età tra quelli che vi mostro. Quindi tutta la linea è quella qua, Serum Vegetal, di tutte le varie lezioni, quindi eccola, Ride Thermeté, Ride Clat, Ride Lifting, eccola, anche la Elixir 79, Anti-Age Global, sempre acquistando due prodotti di qualunque linea. Rich Creme, ecco qui, Zero Defoe, Lifting Bio e ci fermiamo alla Lifting Bio. Poi vi faccio vedere un'altra promozione, eccola qui, che è il set di San Valentino, set Coppia Perfetta, che comprende il latte detergente levigante più la lozione tonica feritezzatrice a 9,95. Oppure altri set, in questo caso set Coppia Perfetta Hydra, che comprende la linea Hydra Vegetal, il gel detergente freschezza, più il tonico idratante luminosità a 7,95. Eccolo qui, l'altro set, che è quello Sebo, della linea Sebo Vegetal, 9,95, il gel detergente purificante più l'acqua micellare purificante 2 in 1. Se no, il set Sensitive, della linea Sensitive Vegetal, 9,95, il latte detergente limitivo più l'acqua micellare limitiva 2 in 1. E ovviamente anche la linea Pulse System, al suo set, sempre 9,95, il gel detergente purificante più l'acqua micellare purificante. Eccoci, altro set, questa è la Coppia Perfetta Hydra Vegetal più la BB Cream, quindi 12,95. Abbiamo il latte detergente idratante più la BB Cream 6 in 1 nel colore medio. Ovviamente si può avviare con questo codice, il colore light, oppure con l'altro codice, il colore medium dark, per adattarsi ad ogni tipologia di incarnato. Altro set, eccolo, 7,95, il gommage goloso alla bicocca più la maschera effetto ghiaccio ai mirtilli. Altro set, e questo è a scelta, 17,95 abbiamo il mascara volume vertige nero, oppure la stilo occhi waterproof, in questo caso il colore verde, ma potete scegliere il colore che volete, c'è sempre il mascara e la matita scelta, eccola, anche tra queste, quindi sempre di 7,95. Andiamo avanti e vado un po' veloce perché questo è l'album dei set. In questo caso abbiamo il set corpo che è a 24,95, comprende il gommage vegetale, il latte nutriente, l'olio bifastico sublimatore, il cofanetto regalo e una salvietta ospite, quindi è davvero un ottimo prezzo. Altro set, eccolo qua, tra visione di un mamme perché abbiamo il 17,95, l'olio doccia orientale e il balsamo di argante nutriente. Andiamo avanti e prestate attenzione perché questi sono i set corpo profumati e è davvero wow. Allora, partiamo con lampone e menta piperita, 9,95, il set piccolo, che comprende il bagno doccia da 200 ml, latte corpo da 200 ml, la pastiglia effervescente, la salvietta ospite e la confezione regalo, tutto a 9,95. Oppure, eccolo qua, sempre lampone e menta piperita, il set grande da 14,95, che comprende il bagno doccia da 400 ml, il latte corpo da 200 ml, le rettualette mandarino e limone cedro da 20 ml, la salvietta ospite e la confezione regalo. Stessa cosa anche per le altre linee, quindi lavanda e mora, il set piccolo, 9,95, il set grande, 14,95. Stessa cosa ovviamente anche mango e coriandolo, set piccolo, 9,95, oppure eccolo qua, il set grande. E stessa cosa anche per mandorla e fiori d'arancio, eccolo, piccolo e grande. E per oliva e petit grain, quindi sempre il set piccolo e il set grande. Poi anche vaniglia bourbon, quindi sempre il piccolo e il grande. e noce di cocco, quindi sempre il piccolo e il grande. Finiamo con una promozione per i capelli, perché abbiamo a 12,95, tutta la linea delle riparazioni, che quelle che sapete io adoro, ve ne parlo sempre. Quindi lo shampoo nutri riparatore, eccolo, da 300 ml, balsamo nutri riparatore da 150 ml e la maschera nutri riparatrice da 150 ml, 12,95, è davvero un'offerta. Direi che questo era tutto. Allora, eccoci, qui l'abbiamo sfogliato tutto ed è come sempre vi ricordo che qui sotto nell'info box c'è il link per contattarmi, per le informazioni e per gli ordini. Poi c'è sempre anche il link per scaricare in formato pdf il catalogo, così possiamo tranquillamente leggerlo sul computer, sul tablet, smartphone o dove volete. Io vi ricordo che è valido fino al primo febbraio del 2017 e non mi resta che augurarvi buoni acquisti naturalmente profumati con il Maggi Quoto del Mondo di Vrushy.